Noi della generazione X ma anche i millennials non siamo nati con internet, è una cosa che abbiamo conosciuto pian pianino quindi mentalmente mettiamo una differenza tra l'essere offline, online, questa generazione, questa differenza non la vive e hanno ragione, non c'è credo che come appunto adulti cadiamo anche in questo pregiudizio, no? ma non è, cioè essere offline, essere online, sono due cose diverse e invece secondo me questo è un approccio sbagliato quindi dobbiamo partire dal fatto che il mondo virtuale e il mondo reale sono fondamentalmente entrambi reali e partire da questo, no? Come dire, da un punto comune altrimenti si interrompe la comunicazione con loro